Un lungo viaggio in giro per l'Italia, fatto di storie, aneddoti, cultura calcistica ed anche territoriale. Il nuovo libro Italia Fattore Campo, dello scrittore e giornalista Vito Romaniello, raccoglie tutto questo. Lo sport più amato dagli italiani è raccontato in maniera originale attraverso i calciatori più rappresentativi di piazze, dalle più blasonate alle meno note, che nel corso della loro storia hanno militato tra Serie A e Serie B. La presentazione nella sala consigliare del comune di Bari, accompagnato dall'ex bomber dell'Alzano Virescit, reggente conoscenza del Monopoli, Giacomo Ferrari. Il calcio piace a tutti, il calcio è questo, il calcio è territorio, il calcio è amore, il calcio è gusto, il calcio è cucina, il calcio è stare insieme. Noi ci siamo sentiti, parlavamo del Monopoli, arriverà il nostro amico Bomber Ferrari, che tu hai conosciuto qui, io l'ho conosciuto su a Bergamo e poi a Modena, e vedi il calcio unisce tutti. Romaniello, dal canto suo anche storico statistico del calcio, ha già pubblicato 38 almanacchi sul campionato italiano, tre libri sulla storia del calcio e quattro sulla tradizione sportiva ed enogastronomica italiana. In questo libro c'è anche tanta Puglia. Vito parla di sport, parla di città, parla di quello che si muove intorno al pallone, quindi anche la tradizione, anche le scelte culinarie è bello, perché è uno spaccato dell'Italia da girare, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista folkloristico, insomma è un bel libro che quando sarà pubblicato vi consiglio di leggere.